Il finale, tempo riferito per loro, 8,79. Regolaria la propensa anche per questa ventunissima finale che pesante sia la preguardo su un tempo di 8,57. Regolaria la proposta finale, 8,89. Buon giorno, e le vie amici per questi controventi, che vengono lanciati sulla preguardo a finale, 9,07. Prende la via, la prova anche per Lazzani, Grimori di Labella Vediamo alla traguarda il nuovo e il 38 Vediamo alla partenza anche per queste tre concorrenti che abbiamo già lanciate sul paraguardo finale Chiudere con un'indicazione di tempo che è di 9,93 E' una partenza anche per queste concorrenti 8,78 8,76 Pintagone-Smaia-Molde-Bianca 8,73 La partenza anche per queste tre concorrenti che abbiamo già lanciate al paraguardo finale Chiudere con un tempo di 8,83 La partenza anche per queste concorrenti che chiudono con 8,95 La partenza anche per queste concorrenti che abbiamo già lanciato con un tempo di 9,97 La partenza anche per queste concorrenti che abbiamo già lanciato con un tempo di 9,95 La partenza anche per queste concorrenti che abbiamo già lanciato con un tempo di 9,95 Il loro riferimento in termini di tempo di 9,50 A tutta velocità per tagliare il paraguardo ai tempi più brevi Il tempo per questa batteria è di 9,39 La partenza anche per queste concorrenti che abbiamo già lanciato con un tempo di 9,99 La partenza anche per queste concorrenti che abbiamo già lanciato con un tempo di 9,99 9,62 9,92 Il loro riferimento in termini di tempo di 9,44